Una cosa bella è un giovane in cammino, che non rimane fermo, un giovane ammalato di allersia al divano. È una malattia buona all'allersia al divano. È un giovane che va avanti camminando, cercando sempre di più, guardando gli orizzonti. Guardare l'orizzonte è guardare sempre un po' di più avanti e avere la fiducia che la luce viene nel cammino. Ma c'è un problema, c'è un detto che dice se tu vuoi andare di fretta cammina solo, se tu vuoi andare sicuro cammina in comunità. A voi giovani che venite qui, venite in gruppo. Sempre camminate con le mani unite. Sarà più sicuro. Quello che cammina solo, sicuro e sbaglia. Sbaglia strada o confonde una strada con il labirinto e non va avanti verso l'orizzonte. Camminare in gruppo, camminare insieme. Guardare l'orizzonte è guardare la luce. Guardare Dio e guardare Gesù Cristo. Avete fiducia in questo, avete coraggio. Avete coraggio di andare cercando Gesù. e guardare l'orizzonte è anche guardare il paesaggio. Guardare la natura. Guardare la bellezza che Dio ha fatto con noi. Cerco Dio in comunità, in cammino, ma custodisco il dono della natura. Queste due cose. Custodisco la mia cassa, che è mia e non è mia. È mia, è nostra e anche di Dio. Avanti. Grazie e coraggio. Coraggio. Scommettere la vita sui grandi ideali. Per favore pregate per me. Che il Signore mi benedica. Grazie a tutti.